Rosario Fiorello nonno, Olivia Testa è incinta, la gioia dello showman. Prima di entrare nei dettagli della vicenda, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Sei curioso di sapere come Rosario Fiorello sta vivendo la sua nuova avventura come nonno? Continua a guardare per scoprirlo. Rosario Fiorello diventerà nonno. La notizia arriva direttamente dalla copertina di diva e donna. Olivia Testa, la figlia di Susanna Biondo, moglie di Fiorello, è incinta. Fiorello, che ha sempre considerato Olivia come una figlia, è pronto ad accogliere un nipotino nella sua famiglia. Olivia Testa, nata nel 94 dalla relazione tra Susanna Biondo ed Edoardo Testa, è stata fotografata mentre riceveva un affettuoso bacio sulla guancia da Fiorello. La giovane futura mamma non ha nascosto la sua felicità, mostrando con orgoglio il suo pancione. Fiorello ha visto crescere Olivia sin da quando aveva solo tre anni, dopo aver iniziato a frequentare Susanna Biondo. Sebbene Olivia si allontana dal mondo dello spettacolo, lavorando nel settore dei media, ha sempre avuto un rapporto speciale con Fiorello. L'unica volta che è apparsa in pubblico è stata durante la serata finale del Festival di Sanremo 2024. In un'intervista con la rivista Gente, Fiorello ha raccontato del suo legame con Olivia. Nonostante non sia il padre biologico, lo showman scherza sempre con Olivia, definendosi un papà frizzante. Questo affetto sincero e profondo è evidente in ogni loro interazione. Fiorello è altrettanto legato alla sua figlia biologica, Angelica. Durante una performance al Teatro Antico di Taormina, Angelica ha suonato al pianoforte e Fiorello, visibilmente emozionato e orgoglioso, è rimasto sul palco improvvisando qualche mossa di ballo e dirigendo l'orchestra con entusiasmo. Cosa ne pensi della nuova avventura di Fiorello come nonno? Pensi che questa nuova esperienza cambierà il suo modo di vedere la vita? Lascia un commento e facci sapere la tua opinione. Questa dolce novità rappresenta un momento di gioia e di celebrazione per Fiorello e la sua famiglia. Non dimenticare di iscriverti al canale e condividere il video per rimanere aggiornato su tutte le notizie più emozionanti del momento. Non dimenticare di iscriviti al canale e condividere il video